Buonasera colleghi e colleghe, scusate se sono ancora qui, è ancora domenica 14 marzo, ma ho pensato di fare un'integrazione perché forse sono stato un po' troppo sbrigativo su una questione che ho visto che interessa tanti, allora è bene tornarci un attimo, abbiate pazienza, d'altronde se fosse infallibile farei il Papa. La questione delle seconde case, allora nel silenzio di eventuali ulteriori FAQ che il governo potrebbe emettere anche nei prossimi giorni per fornire chiarimenti ulteriori, al momento la FAQ del governo ci dice alcune cose, precisamente queste. Visto che dal 16 gennaio le disposizioni che sono state adottate consentono il rientro presso abitazione, domicilio o residenza, come siamo ormai abituati a sapere e a ripetere, e non prevede limitazioni rispetto alle cosiddette seconde case, è possibile fare rientro proprio nelle seconde case anche in altre regioni o province autonome anche di colore diverso, quindi di fatto ci si può spostare tra regioni e tra, diciamo, colori, però solo a condizione che si possa provare di avere effettivamente titolo per recarsi in quell'immobile, di avere avuto quindi titolo, di recarsi in quell'immobile anteriormente all'entrata in vivore del decreto 2 2021 del 14 gennaio. Che cosa vuol dire? Che io devo avere un titolo che mi legittimava già da 14 gennaio a rientrare in quella che era allora, essendo una seconda casa, poteva essere allora considerata un'abitazione. Quindi, serve un titolo che ci dicono le FAQ per ovvie esigenze anti-elusive, quindi per evitare che facciane furbi, i soliti personaggi noti, deve avere una data certa, come ad esempio la data di un atto stipulato dal notaio o la data di registrazione di una scrittura privata che deve essere anteriore appunto al 14 gennaio 2021. Se io ho quindi un contratto con data certa anteriore a quella data, quella immobile è considerabile abitazione e io posso sempre fare ritorno alla mia abitazione. Quindi, precise le FAQ, sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi a quella data e tra questi anche le locazioni brevi non soggette a registrazione. Quindi, anche questo tipo di rapporto di contratto non è valido, non è sufficiente per permetterci di considerare l'abitazione e quindi legittimo il rientro. Naturalmente, ci precisano ancora le FAQ, la casa di destinazione, quindi l'abitazione, non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, cioè con l'intestatario del contratto. E vi si può recare, ancora una volta, ovviamente, unicamente quel nucleo familiare. Quindi, non ci devono essere altri nuclei familiari residenti o abitanti nello stesso immobile, nello stesso appartamento, per intenderci. Ovviamente, i requisiti necessari che abbiamo appena elencato devono essere provati o con la copia del titolo di godimento avente data certa, come abbiamo detto, oppure con autocertificazione, che poi dovrà essere soggetta ai successivi controlli, come già sappiamo. Scusatemi ancora se sono stato magari impreciso, precipitoso, sono frettoloso. Spero di aver chiarito con questa integrazione. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie.